Sono 61, 8 più di ieri, i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati nella ASL di Teramo. Il bollettino medico dell'azienda sanitaria è aggiornato alle 9 di questa mattina. Dei ricoverati, 14 sono in malattie infettive, 5 sono in rianimazione Covid a Teramo, 37 sono ricoverati nei reparti Covid dell'ospedale di Atri e 5 in rianimazione sempre ad Atri. Non vengono segnalati nuovi decessi. Nuovi contagi intanto vengono annunciati dai sindaci del territorio con messaggi ai concittadini affidati a Facebook. Gli ultimi sono del sindaco di Sant'Egidio e la Vibrata, Elicio Romandini, del collega di Atri, Pier Giorgio Ferretti e del primo cittadino di Teramo, Gian Guido d'Alberto. Quest'ultimo aggiorna 23 i casi positivi nel capoluogo, di cui 5 ricoverati e 18 in isolamento domiciliare. Stanno bene e il servizio di prevenzione della ASL ha già tracciato i contatti. Un aumento, secondo D'Alberto, legato all'estensione spinta dei tamponi al personale medico, infermieristico e sanitario tutto, in quanto i nuovi positivi sono riconducibili ai contagi in ambito ospedaliero. Dall'incrocio, sempre difficile per la disorganicità delle comunicazioni, dei dati forniti dai vari settori della ASL, si registra complessivamente, come avevamo anticipato, un ulteriore incremento dei casi positivi nel nostro comune capoluogo di provincia, commenta D'Alberto. La maggior parte di tali casi, soprattutto i nuovi, è riferita al personale sanitario, conferma il primo cittadino, verso cui negli ultimi giorni, come avevamo chiesto, si sta concentrando un'azione più intensa di monitoraggio e mappatura del contagio, a difesa del diritto alla salute loro, dei pazienti e più in generale della tenuta dei presidi ospedalieri. Su questo fronte dobbiamo fare di più per proteggere chi ci sta proteggendo. Resta da migliorare il fronte della comunicazione con la ASL. Con un lavoro certosino stiamo proseguendo nell'attività di allineamento dei dati aggregati con i riferimenti nominativi che continuano ad essere comunicati alla spicciolata e in forma non sempre ufficiale, rileva D'Alberto. Su questo, anche in rappresentanza di tutti i sindaci, continueremo a pretendere certezza, tempestività ed esaustività delle comunicazioni.